Una partita splendida e che resterà per tanto tempo negli occhi degli appassionati di pallavolo segna la fine del percorso della Savino del Bene Scandicci nei play-off scudetto. Si arresta in semifinale la corsa della squadra di coach Parisi eliminata al termine della gara 4 disputata al Palaestra di Siena. 2-3 il risultato in favore della Igor Gorgonzola Novara in grado di aggiudicarsi la serie per 3-1. La decisiva gara 4 ha visto Novara avanti al termine del primo set conquistato 16-25 in scioltezza. Nella seconda frazione ha risposto Scandicci che ha pareggiato il conto dei set sull'1-1 con un'imposizione per 25-21. Scandicci ha vinto 25-13 anche il terzo set ed è passata al comando di una gara che Novara ha riacciuffato vincendo 21-25 il quarto set. Il match si è così concluso con un tie-break emozionante e spettacolare decisosi 19-21 in favore della Igor Gorgonzola Novara trascinata da una super prestazione di una Paola Egonu da 38 punti. Non bastano invece a Scandicci 24 punti di Huck, la Savino del Bene abbandona i play-off Scudetto a testa alta dimostrandosi ancora in crescita. La Igor Gorgonzola Novara invece inizierà il primo maggio lo scontro per lo Scudetto nella finale contro Limoco Volley Conegliano per una sfida infinita già vista in finale di Coppa Italia e che sarà protagonista anche della finale di Cev Champions League.